Volevo farvi vedere questo fantastico banchetto che ho trovato in una saga che sono andata. Pensate che tutte queste cose qua sono fatte di cose reciclate, per esempio le borse fatte di cartone con queste fantasie bellissime. Utilizza carta giornale, capsule da caffè, tutto fatto a mano da loro e tutto 100% reciclato. Io sinceramente avrei voluto prendermi tutto quanto perché è veramente uno spettacolo, soprattutto per il lavoro che lui fa. Guardate questi portachiave stupendi, fatti con materiali che non utilizziamo più. Indovinate un po' cosa avrò preso io di tutte queste cose che vedete qua nel video? Se indovinate scrivetemelo qua nei commenti. Comunque questo ragazzo spedisce dappertutto, se volete comprare qualsiasi cosa lui spedisce tranquillamente a tutte le parti. Comunque vi lascio qua il loro bigliettino dove potete contattarlo tranquillamente senza impegno. Quindi ragazze spero che il video vi sia piaciuto. Ciao! Ciao!